lascia un mi piace iscriviti attiva la campanella in diretta ragazzi sta per succedere l'incredibile ci siamo pronti sei pronto pochissimi quindi no sto male sto male non viene da vomitare ma dov'è il tuo cane ragazzi abbiamo fatto sparire tutta una roba stavamo per fare un disastro se con la macchina la beccavo era un disastro era un disastro prossimamente prossimamente che non so a casa alle iene ragazzi grazie per la visione iscriviti al canale attiva la campanella per noi è importante resta sempre aggiornato